La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 57enne colto nella flagranza dei reati di detenzione di arma da fuoco clandestina e di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I falchi della squadra mobile hanno fermato l'uomo nel rione San Cristoforo, notando una certa reticenza nel rispondere alle domande sulla sua effettiva dimora. Ciò ha spinto gli operatori della squadra mobile a effettuare ulteriori approfondimenti, dai quali è emerso che il 57enne aveva la disponibilità di un immobile di cui non aveva fatto menzione. Tanto è bastato per indurre i poliziotti a perquisire tale abitazione con esito positivo. Grazie all'intuito investigativo degli agenti, infatti, sono stati rinvenuti e sequestrati una pistola semiautomatica marca Beretta, con matricola brasa e fornita di caricatore con sei cartucce, e diverse dosi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, cocaina, crack e hashish. Rinvenuti anche strumenti utili alla pesatura e al confezionamento delle droghe. L'uomo è stato quindi arrestato e posto a disposizione dell'autorità giudiziaria competente.